Per un solo punto Niccolò Fraschini salva la presidenza della Commissione Bilancio. Dopo il post razzista pubblicato su Facebook e la successiva richiesta di dimissioni, la votazione ha dato ragione al consigliere comunale di Pavia Prima, nel tardo pomeriggio di mercoledì. In maggioranza solo il capogruppo di Forza Italia, Giovanni De Maria, ha votato a favore delle dimissioni, mentre i contrari sono stati Eugenia Marchetti e Roberto Mura della Lega, Paola Chiesa per Fratelli d'Italia, Daniele Travaini per Pavia Ideale e lo stesso Fraschini. Assente alla videoconferenza invece Rodolfo Faldini, tra i firmatari della richiesta di dimissioni. Non sono mancate le polemiche al termine della Commissione Bilancio. Durissima la presa di posizione di Alessandro Cattaneo, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, che attraverso i social ha parlato senza mezzi termini di vergogna per la riconferma di Fraschini alla presidenza della Commissione. Un passaggio politico che apre una crepa ed alimenta le tensioni tra Forza Italia e del resto della maggioranza di centrodestra. Ma le critiche sono arrivate anche dall'altro lato dello schieramento politico. Dispiace che in Consiglio Comunale si dà un consigliere che non ha neanche il coraggio di assumersi la responsabilità delle sue azioni per stare incollato alla sedia, attaccato il Partito Democratico. Una vergogna anche per Alice Moggi della lista civica Pavia Colori, che ha sottolineato di preferire essere coerente perché i valori non si vendono per trattative politiche.